Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria. L'Assemblea Legislativa si è riunita a martedì 20 aprile nella sede di Palazzo Cesaroni a Perugia. Nel corso della giornata di lavori sono state discusse interrogazioni a risposta immediata, question time, e mozioni. Durante la discussione delle interrogazioni il consigliere Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto ha chiesto alla Giunta regionale quali sono le politiche di gestione delle risorse idriche e come mai l'Umbria risulta essere la seconda regione d'Italia più cara per bolletta idrica. Inoltre quali azioni si immaginano per ridurre la dispersione idrica e il costo dell'acqua per le famiglie Umbre. L'assessore Roberto Morroni ha risposto che c'è bisogno di investimenti sulle infrastrutture per colmare un gap accumulato in decenni. Ci sarà attenzione ai costi per le famiglie e i controlli per la qualità dell'acqua. Il consigliere regionale Tommaso Bori del Partito Democratico ha chiesto di conoscere le azioni che la Giunta intende attuare per il potenziamento del servizio di assistenza psicologica e di salute mentale tramite i centri di salute e i servizi del territorio. L'assessore Luca Coletto ha risposto che l'esecutivo vuole rivedere l'organizzazione e l'operatività con una nuova programmazione sanitaria, con servizi più omogenei e riconoscibili, una presa in carico integrata del paziente, con particolare attenzione agli adolescenti e un potenziamento dell'assistenza psicologica in generale. I consiglieri regionali Valerio Mancini e Stefano Pastorelli della Lega hanno interrogato l'esecutivo di Palazzo Donini per conoscere l'andamento dell'utilizzo degli anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19. L'assessore Luca Coletto ha risposto che in Umbria i pazienti sottoposti a trattamento sono 48, di cui 19 nell'azienda ospedaliera di Perugia, 9 a Spoleto, 9 a Terni e 11 a Città di Castello. I dati ancora non ci sono, ha detto l'assessore, perché deve trascorrere un mese, ma i risultati sono incoraggianti. Il consigliere regionale Valerio Mancini della Lega ha chiesto alla Giunta si intende individuare misure di carattere strutturale specifiche e dedicate nel nuovo PSR Umbria a sostegno delle attività zootecniche. L'assessore Roberto Morroni ha risposto che i costi aziendali hanno un impatto significativo, ma la cultura ambientale è divenuto ormai fattore distintivo che caratterizza i modelli di competizione, con il cittadino, ha detto l'assessore, che diviene custode dell'ambiente e delle produzioni di qualità. La regione deve affiancare le imprese agricole nel sostegno a questi principi. Il consigliere regionale Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle ha chiesto di sapere se vi siano in corso ulteriori studi e verifiche sull'inquinamento prodotto dai nitrati e la vulnerabilità dei terreni, con particolare riguardo alla Valle Umbra a sud del fiume Chiascio e al Genna nella media valle del Tevere. L'assessore Roberto Morroni ha risposto che attiva una rete di monitoraggio delle acque sotterranee con 583 stazioni che consente di avere idonee informazioni. Sulle acque superficiali, ha detto Morroni, ci sono 77 punti di controllo per la presenza di nitrati e di altri parametri. Il consigliere regionale Michele Bettarelli del Partito Democratico ha interrogato la Giunta per sapere quali sono le strategie che la regione intende adottare in merito alla gestione del sistema rifiuti, con particolare riferimento alla limitatissima capacità residuale di conferimento nelle discariche Umbra. L'assessore Roberto Morroni ha risposto che si stanno predisponendo linee guida per riprofilare le discariche attuali, incrementandone la capacità senza ampliarle, mentre si procede agli interventi per la riduzione della quantità di rifiuti solidi urbani in esse conferiti. L'Aula ha poi discusso cinque mozioni, approvandone quattro. In particolare l'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità la mozione promossa da Francesca Peppucci della Lega, che prevede contributi alle attività economiche svolte nei centri storici dei comuni dove siano situati santuari religiosi. Nello specifico si impegna la Giunta a chiedere che la norma sia applicata nei confronti di tutti i comuni umbri con santuari religiosi, indipendentemente dalla popolazione residente, e comunque includendo i comuni del cratere e incrementando le risorse estanziate per la sua attivazione. L'Assemblea Legislativa ha invece bocciato, con dieci voti contrari della maggioranza e otto favorevoli delle opposizioni, la mozione firmata dai consiglieri regionali Fabio Paparelli e Tommaso Bori del Partito Democratico, con cui si chiedeva alla Giunta regionale una serie di impegni relativi al potenziamento della sanità nel comprensorio ternano, dal nuovo ospedale a Terni, alle case della salute ad Amelia e Narni, fino all'emodinamica a Orvieto. Altra mozione approvata all'unanimità è quella firmata dai consiglieri regionali Eleonora Pace e Marco Squarta, di Fratelli d'Italia, che chiede alla Giunta di Palazzo Donini di attuare le nuove indicazioni per le priorità vaccinali, che ricomprendono tutte le persone estremamente vulnerabili, con particolare attenzione ai pazienti oncologici che abbiano riportato una immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico indipendentemente dalla data di termine delle cure. L'Aula ha anche approvato la mozione di Andrea Fora, patto civico per l'Umbria, che chiede alla Giunta di attivarsi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico regionale e degli enti locali, proponendo all'esecutivo di Palazzo Donini di avviare una ricognizione del patrimonio pubblico immobiliare inutilizzato in capo alla Regione e alle sue partecipate, che potrebbe essere valorizzato per avviare progetti di sviluppo sociale ed economico in grado di generare occupazione giovanile e nuove filiere di economia circolare. Infine, l'Assemblea legislativa ha dato il via libera alla mozione promossa dai consiglieri della Lega Paola Fioroni, Stefano Pastorelli e Valerio Mancini, che prevede misure di promozione e sostegno per lo sviluppo della filiera suinicola Umbra. Nello specifico, si impegna la Giunta a prevedere forme di sostegno per gli allevamenti di carne suina al fine di rilanciare una filiera strategica per l'Umbria, anche per recuperare competitività rispetto alla concorrenza straniera. Inoltre, si chiede di lavorare per la riattivazione dei mattatoi in Umbria, strutture fondamentali per la chiusura della filiera. È tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale Sordi, Consiglio regionale dell'Umbria.